Una storia a lieto fine iniziata certamente nel peggiore dei modi ma finita ora decisamente bene. Il piccolo Sissè, bambino di 5 anni sbarcato nel porto di Corigliano senza genitori, dopo aver ritrovato il padre a breve riabbracerà anche sua madre. Dai viaggi della speranza fino al ricongiuggimento del nucleo familiare la vicenda è stata abbastanza complessa ma grazie al lavoro delle istituzioni e in particolare del leader del movimento diritti civili Franco Corbelli il lieto fine è arrivato. In un primo momento infatti era stato rintracciato il padre del bimbo che viveva in Francia mentre la mamma era rimasta prigioniera in Libia. Il clamore mediatico probabilmente ha convinto i rapitori a liberare la donna che ha potuto così raggiungere la costa d'Avorio e a breve tornerà in Italia dove potrà finalmente riabbracciare il figlio da cui era stata separata.